La mia testimonianza è una premessa utile. Voglio infatti dirvi subito quello che voi non ascolterete da questa testimonianza. Io non so perché siete qui questa sera, non so cosa vi ha spinto a venire qui ad ascoltare questa conferenza. Certamente molti di voi sono qui per sapere il perché di questo incontro, di perché qualcuno è venuto a parlarvi e spiegarvi perché ha lasciato l'organizzazione dei testimoni di Geova. Altri, più che una curiosità, avranno parlato. I genitori, i figli, i testimoni di Geova sono turbati, vedono che c'è qualcosa che non va e non sanno cosa. Altri forse in questo momento stanno indagando nel grande vivaio delle religioni, stanno cercando Dio, vogliono comprendere chi è Dio. Il profondo desiderio di voler aiutare gli amici e i testimoni di Geova a conoscere in maniera più approfondita la vita e l'amore. Spero che vi siano in mezzo a noi anche dei testimoni di Geova, che avendo avuto l'invito sono venuti a venire ad ascoltare per sentire quello che dicevano.